cari amici allora io purtroppo sto video mi sarei evitato volentieri di farlo perché mi ruba del tempo e mi costringe a parlare di una cosa veramente inutile ecco però siccome molte persone ho paura che molte persone stiano cascando in questa trappola ho deciso di fare un po di chiarezza allora io invito tutte le persone che ascoltano questo video e che mi seguono con tanto affetto a non partecipare alla manifestazione del 25 aprile e comunque a non seguire in nessun modo chi promuove questa manifestazione e di interrompere ogni rapporto subito immediatamente ecco non proseguire nessun tipo di rapporto con queste persone allora la manifestazione che qualcuno indice a nome del popolo è qualcuno che non si sa nemmeno chi è ecco che non sa nemmeno cosa dice tanto per essere chiari è soltanto una grandissima trappola la manifestazione del 25 aprile è una grandissima trappola ok in questo video vedremo perché allora come vi ho spiegato è in atto un grande un grande dispiegamento di forze per il controllo mentale operato da tutti i mass media in mezzi di informazione questa situazione che è stata creata ci costringe in casa la maggior parte delle persone seguono solo la televisione oppure quelli che seguono il web vengono invitati e bombardati a guardare dei video per creare soltanto confusione e disinformazione tutto questo provoca malessere nelle persone un malessere superiore al fatto di essere di fatto dei carcerati siamo tutti carcerati in questo momento quindi questo è una situazione di disagio che tra l'altro fa anche male alla salute mentale e alla salute fisica psicofisica insomma e indebolisce anche il nostro sistema immunitario in questa situazione è ovvio che le persone sono molto confuse intanto faccio una riflessione notate che certi canali hanno subito un incremento nel numero di iscritti e di visualizzazioni incredibile e che tanti altri canali non sono minimamente stati toccati da una diminuzione degli iscritti e delle visualizzazioni ma torniamo all'argomento principale perché vi dico questo questo controllo mentale purtroppo che è in atto fa sì che ci sia qualche d'uno che spunti fuori chissà come mai dall'oggi al domani ed inizia a soffiare sul sulla benzina sul fuoco veramente che accenda il fuoco questo fuoco e che ci soffi sopra questa è un'operazione semplicissima proprio perché siamo tutti in una forte situazione di disagio di rabbia non ce la facciamo più e abbiamo una sacrosante giustissima voglia di protesta e non vogliamo più accettare questo stato di cose detto questo che è sacrosanto c'è però da stare attenti perché se poi tante persone cascano o no in un controllo di diverso tipo si rischia che tutta questa rabbia venga convogliata in una operazione studiata a tavolino per convogliare questa rabbia in un contenitore e poi i casi sono due o in questo modo disinnescare la protesta e la rabbia oppure cosa ancora peggiore farsi da esporre che queste persone si espongano in una manifestazione che non serve a niente per poi essere massacrate e spegnere così con magari delle denunce penali con la forza con la violenza la giusta voglia di protesta delle persone è sopprimerla in questo modo se ciò dovesse succedere ovviamente tante persone si spaventerebbero e tante persone perderebbero anche la voglia di manifestare quindi la protesta va fatta è sacrosanta ma va fatta in un modo molto preciso ecco prima di tutto non state a sentire persone che non conoscete che non avete mai visto e mi riferisco a questo sedicente gruppo che dice di rappresentare il popolo ma che nessuno conosce non si sa chi siano queste persone e che lanciano questi appelli che se uno li legge sono anche molto belli assolutamente condivisibili no 25 aprile ore 17 scendiamo in strada chat nazionale il nuovo 25 aprile la persona che parla si firma real manu quindi sicuramente è un nome di fantasia oppure è un nome sicuramente straniero non mi risulta che in italia una persona si possa chiamare real manu tanto per essere per essere chiari poi detto questo adesso ascoltiamo alcuni audio di questa real manu o come diavolo si chiama e in questi audio vedremo come questa persona sia passata in un solo giorno cioè da un giorno all'altro da incitare le persone ad andare in giro ad aggregarsi andare a manifestare senza protezione senza mascherina e senza guanti a dire invece no noi vogliamo salvaguardare le persone è questo un comportamento alla renzi no che per esempio fare un esempio che aveva detto io se perdo il referendum esco dalla politica e poi invece ancora lì è lo stesso atteggiamento dei nostri politici che lo conosciamo benissimo oggi vi dico una cosa e domani vi dico l'opposto ecco io non mi domando come si possa seguire persone del genere volete ricascare nei soliti meccanismi nelle solite trappole fate quello che volete però insomma vi invito come sempre a usare la testa ecco poi c'è un'altra cosa da dire che da un giorno all'altro sempre questa persona che dice di rappresentare il popolo ma non rappresenta proprio nessuno cosa dice dice il giorno prima manifestiamo facciamo questo facciamo quello e bla 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 ci uniamo tutti insieme e invece il giorno dopo cosa dice no allora usciamo tutti con guanti e mascherine e restiamo entro i 200 metri da casa e allora io mi domando perché siccome io vado in giro col cane no vorrei ricordare a tutti che le persone vanno già oggi in giro entro i 200 metri da casa e quindi questa non è una manifestazione cioè non serve a niente io se volete fare due passi sotto casa lo potete fare anche oggi anche adesso scendete nessuno vi può dire niente ecco questo per farvi capire come è cambiata già la cosa da una protesta a una cosa che è veramente inutile tanto per essere chiari ecco comunque la cosa veramente grave da fare proprio rabbrividire è che questa persona dice siamo cresciuti tantissimo e adesso noi dobbiamo parlare con lo stato ecco qui sta proprio tutto l'inganno amici tutto l'inganno allora in questa situazione non si può parlare con lo stato perché lo stato siamo noi noi siamo lo stato la sovranalità appartiene al popolo e siccome quello che viene definito stato e parlo di tutte le istituzioni a tutti i livelli soprattutto i vertici di queste istituzioni sono degli usurpatori chiaramente illegittimi secondo la legge e secondo la costituzione allora non si possono noi non possiamo riconoscere questo come stato perché nel momento in cui lo riconosciamo cadiamo in un grande inganno invece quello che va fatto la protesta che va fatta è ben diversa da questa e certamente non può avere come fine il fatto di dialogare con delle istituzioni che sono illegittime con delle persone che usurpano il potere perché se no di nuovo si ricade nel solito gioco quindi prendo la rabbia la butto in un contenitore è come hanno fatto i 5 stelle no come ha fatto i 5 stelle la stessa cosa per di più vi ricordo questi sono perfettamente dei perfetti sconosciuti che non rappresentano nessuno non vi fate prendere in giro e adesso vi faccio ascoltare degli audio di questa persona e li commentiamo insieme allora iniziamo dagli audio che questa realmano questa sedicente rappresentante del popolo ha diffuso in data 19 aprile e poi ascoltiamo quelli che invece ha diffuso in data 20 aprile iniziamo perché la rete è tanta siamo in tanti siamo ovunque presenti in tutti i canali social quindi forza tutta avanti tutta buona giornata allora come avete sentito questa persona dice la rete è tanta io non sono neanche italiano dire la rete è tanta quindi occhio anche al livello di preparazione che a questa persona che è sotto lo zero e dice siamo in tanti sentite siamo su tutti i canali social siamo dovuti questi sono dovunque andiamo avanti allora ragazzi siamo tanti siamo troppi stiamo crescendo non siamo solo in questo gruppo perché ci sono persone che da whatsapp stanno arrivando qui persone che da facebook vogliono entrare anche qui ci sono altre persone al di fuori che ci supportano con loro vari gruppi che hanno 3 4 mila follower 5 mila chi ne ha 20 mila e sta prendendo il nostro messaggio in alto e lo sta replicando in tutte queste questi canali social quindi bene qui ribadisce il concetto no dice siamo tanti siamo troppi addirittura siamo troppi va bene non fa il nome di nessuno parla di mischia i canali di telegram event mode o comunque dei messi di messaggistica con quelli di youtube parla di canali che hanno 35 mila anche 20 mila iscritti che stanno rimandando questo appello per il 25 aprile ora io magari sono disinformato in questo senso perché non seguo questo tipo di persone a me non risulta che vi sia questa partecipazione da parte di youtuber mi intendo di youtuber che fanno informazione reale poi se c'è qualche sproveduto e ce ne sono tanti che si è esaltato in questo periodo pubblicando video anche di disinformazione a destra e sinistra e tutto si è montato la testa perché i social glieli pompano è un altro discorso ci tengo a precisare questo perché siamo il popolo il popolo si sta unendo a noi ci sono altre organizzazioni che avevano indetto delle manifestazioni alla fine quindi quando scenderete in strada non troverete solo noi nel senso chi vuole partecipare al 25 aprile a quello che abbiamo creato noi ma troverete anche altre manifestazioni dove vi potrete aggregare se volete ok tanto il fine alla fine sono tutti i canali che poi si vanno a collegare a un unico scopo cioè il 25 aprile io rompo la quarantena e scendo in strada qui ribadisce questa signora che siamo il popolo ma non si capisce no perché dovrebbe dire quale popolo rappresenterebbe questa signora sconosciuta poi parla di nuovo di organizzazioni che avevano indetto delle manifestazioni quali non si capisce che però tutte magicamente sono uscite unite no a questi sconosciuti e dice anche dove vi potete vi potrete aggregare aggregare io ricordo che purtroppo in questo momento l'aggregazione quindi l'assembramento è un reato penale quindi questa signora indirettamente o direttamente sta consigliando alle persone di commettere un reato penale scendo in strada ho già visto al telegiornale che in america sono già scesi due paesi in strada e non ho visto poliziotti che caricavano nessuno non ho visto niente di tutti ciò di tutto ciò ho visto un popolo unito e noi questo ne dobbiamo essere un popolo unito dobbiamo smetterla di pensare a ma oh mio dio se esco cosa mi succede mi fanno una multa mi caricano se scende il popolo non possono fare nulla se non stare lì a guardare quello che voi fate e poi magari la polizia si unisce pure perché non è che tutti sono contenti di quello che sta succedendo infatti a me giungono parecchie testimonianze di persone che sono state fermate e magari non ne hanno neanche chiesto autocertificazioni e non chiedono niente perché anche la polizia le forze dell'arma sono stufe di questa storia si sono stufati hanno capito i giochini che stanno facendo cioè poi questa signora continua nella sua opera di buttare benzina sul fuoco e di fare disinformazione in modo molto grave oltretutto allora secondo questa qui perché lei lo ha sentito al telegiornale quindi già una persona che guarda i telegiornali è una persona dalla quale bisogna diffidare ma proprio fortemente chiunque guardi ancora la tv gli diretta comunque dice che siccome in america non hanno caricato i poliziotti non succederà neanche qui ecco questo io vorrei sapere in base a quale a quale non so quale principio della fisica non so della logica si riferisca purtroppo paesi diverso forze dell'ordine diverse leggi diverse e tante altre cose poi dice perché se il popolo scende i poliziotti non possono fare nulla e questo è un altro grave affermazione che fa questa persona perché purtroppo se si fa una manifestazione che viene considerata illegale e lo sappiamo purtroppo come si comporta la polizia e come si stanno comportando le forze dell'ordine in questo momento poi dice un'altra cosa che fuori da ogni logica veramente la polizia si la polizia si unisce a noi anche le forze dell'ordine mi stanno arrivando tante segnalazioni che le forze dell'ordine non chiedono neanche le certificazioni le autocertificazioni allora questo sono affermazioni gravissime perché poi le persone siccome sono arrabbiate confuse si rischia che qualche brava persona qualche padre di famiglia qualche persona con le ottime intenzioni poi di a retta a queste cose ecco e poi si metta nei casini e questo a me non piacerebbe per niente insomma quindi a me risulta che le forze dell'ordine stiano menando picchiando le persone addirittura che si stiano comportando l'abbiamo visto nel video di ieri con un'arroganza entrano in chiesa interrompono la messa e non intervengono invece per andare a punire delinquenti quindi insomma ecco diffidati da chi dice delle cose del genere perché vi sta raccontando quella dell'uva è chiaro ma chi è questa persona ma come può fare delle affermazioni del genere tra l'altro vi ripeto ecco io la mia preoccupazione che poi qualche d'uno dando retta a queste cose ci creda e poi si metta nei casini ecco questa è la cosa che mi dispiacerebbe veramente dobbiamo farci vedere uniti scendete in strada toglietevi ste cacchio di mascherine tanto non vi servono a nulla tanto non proteggono da niente ok io sono tre mesi che esco senza mascherina senza guanti e vado dappertutto ovunque io così come l'ho fatto io lo fa la mia famiglia lo fanno altre persone che conosco e sono sempre state bene quindi smettetela di credere a tutte ste pagliacciate che vi hanno inculcato in testa ok se dobbiamo fare una cosa dobbiamo farla tutti uniti dritti e verso un unico obiettivo non sarete in 100 in 200 saremmo il popolo mettetevelo in testa perché il 25 ci sarà un casino perché la gente stufa la gente in giro e sicuramente si aggregheranno a voi anche tutte le persone che vanno in giro tutti quelli che sono in giro non stanno rispettando la quarantena e sono tanti e tutte quelle persone lì noi le dobbiamo anche coinvolgere in quello che facciamo quando scenderemo per strada allora cari amici come vedete questa persona istiga le persone a uscire senza mascherine perché non servono a niente e questo istiga a un reato questa persona sta istigando le persone a commettere un reato inoltre il fatto che dica che lei va in giro da tre mesi senza mascherine e senza protezioni lo fa anche la sua famiglia sta denunciando di essere una criminale che commette ripetutamente dei reati perché noi io vi vorrei ricordare siamo in uno stato di dittatura oltretutto ecco allora poi vorrei ricordare una cosa il virus questo coronavirus è estremamente contagioso ma è molto poco letale alla maggior parte delle persone non fa assolutamente nulla quindi può essere che io me ne vado in giro per tre mesi senza protezioni mi prendo il coronavirus non mi fa niente ok però sono contagioso magari mi avvicino una persona anziana con delle patologie la contagio e rischio di mandare questa persona all'altro mondo di ammazzare qualcuno quindi io vi invito veramente cari amici non date retta perché rischiate per niente di non solo magari beccarvi delle denunce penali ecco ma soprattutto poi rischiate un domani di avere dei morti sulla coscienza ecco poi di nuovo questa inganna dice non saremo 100 200 saremo il popolo quale popolo quale popolo chi chi è questa qui non rappresenta nessuno vi sta ingannando ecco poi le persone vanno in giro certo che vanno in giro anch'io vado in giro col cane porto in giro la spasso il cane questo non vuol dire che se domani vedo della gente che manifesta non so neanche perché lo fa mi unisco a loro ecco quindi poi oltretutto dice di nuovo di aggregarsi quindi signori state attenti perché vi ripeto non vorrei che qualche persona brava persona un padre di famiglia una madre di famiglia no perché sono giustamente ripeto arrabbiati si facciano in finocchiare da questa qui e poi si trovino nei guai soprattutto per niente perché fare una manifestazione di questo tipo non serve a niente non ha nessun risultato l'unico risultato che può ottenere una cosa del genere è quello di danneggiare le persone che partecipano ecco pensate pensate a queste cose e adesso invece ci ascoltiamo i messaggi di questa sedicente eh sedicente rappresentante del popolo è del giorno dopo allora guardate questa persona come cambia opinione esattamente come un qualsiasi politico ascoltate perché quello che è successo ieri per le strade quello non deve succedere quando noi scenderemo in strada il 25 aprile perché le persone sovversive e deversive noi non le accettiamo perché noi siamo il popolo quella parte bella di popolo gente buona gente onesta e non vogliamo avere niente a che fare con questa gente gente come partiti politici estremisti noi non li vogliamo allora poi qui di nuovo dice noi non vogliamo quelli sovversivi e deversivi e questo è condivisibile no perché noi siamo il popolo quello buono e che chi è dov'è che sta scritto che questa qui rappresenterebbe il popolo quello buono ma fatevele queste domande poi ripeto il giorno prima questa persona è stata la prima a lanciare degli appelli eversivi degli appelli chiaramente eversivi quindi il giorno prima lei era eversiva e lanciava appelli eversivi il giorno dopo dice sono eversivi gli altri è insomma la coerenza vi invito a scendere in strada consigliandovi di munirvi di essere muniti di mascherine guanti perché non ci siete solo voi ci sarà tutto il popolo e noi dobbiamo proteggere il popolo non dobbiamo passare per un tori non dobbiamo dare un messaggio sbagliato perché noi dobbiamo dire allo stato che noi possiamo fare tranquillamente la nostra vita col distanziamento sociale e anche indossando le mascherine perché no ecco qua avete sentito allora il 19 aprile diceva io vado in giro senza guanti e mascherina da tre mesi come tutta la mia famiglia perché non servono a niente uscite anche voi buttate via non usate le mascherine perché non servono a niente 24 ore dopo il 20 di aprile cosa dice usate tutti i guanti e mascherine perché noi rappresentiamo tutto il popolo questa non rappresenta nessuno lo capite vi stanno prendendo in giro nessuno questa non è nessuno e non rappresenta proprio nessuno ecco poi dice di voler proteggere il popolo ma come il giorno prima dice che le mascherine non servono a niente istighi le persone a commettere dei reati ad andare in giro senza le protezioni ad assembrarsi e a contagiarsi a vicenda e il giorno dopo cambi idea è strano è strano che cambi idea così mi sembra proprio il comportamento classico di tutti i politici e poi parla di distanziamento sociale e di indossamento di mascherine e guanti per riprendere la vita di tutti i giorni cioè amici non si può dare retta una persona del genere io lo capite che vi prende in giro una persona che cambia idea dall'oggi al domani adesso vediamo poi anche perché ha cambiato idea perché mai avrà cambiato idea ma quindi dobbiamo essere forti tutelare e tutelarci tutti quanti non abbiate paura perché noi siamo pacifici abbiamo rimodulato le cose questo non vuol dire che siamo diventati a vi siete venduti no ma vuol dire anzi che dato che siamo stati messi sotto la lente di ingrandimento nazionale e internazionale giustamente arriva un punto che con lo stato bisogna andare a parlarci e esprimere le nostre idee quello che vogliamo fare come vorremmo procedere ecco qui casca proprio l'asino completamente no addirittura sono sotto la lente di ingrandimento nazionale e di internazionale ammazza mister nessuno miss nessuno che non rappresenta nessuno e quante arie si dà e poi e qui proprio casca l'asino no perché dice che siccome sono cresciuti veramente secondo me non esiste questa cosa però nella testa di questa qui che si diverte a soffiare sul fuoco a buttare benzina sul fuoco a giocare col sentimento giusto di protesta e sano delle persone ecco e le sta spingendo verso una cosa assurda dice qual è il fine alla fine qual è il fine alla fine qual è il fine secondo questa persona il fine della protesta qual è parlare con lo stato parlare con lo stato e allora cari amici capite bene che questa vi vuole infinocchiare è chiaro vuole prendere il vostro disagio la vostra rabbia probabilmente vorrà poi farne un partito politico qualcosa di questo tipo perché vuole parlare con lo stato ecco io vi dico chiaramente se uno vuole fare una protesta in questo momento è perché vuole protestare contro lo stato e contro questo stato di cose quindi l'ultima cosa da fare in questo momento se uno vuole fare una protesta è quella di parlare con lo stato quindi lo capite che vi stanno prendendo in giro queste persone e se non lo capite problemi vostri però pensateci almeno spero che almeno spero che almeno questo video vi farà riflettere andiamo avanti quindi la gente stufa la gente stanca vuole scendere in piazza e noi saremo quelle persone che scenderanno in piazza ma dobbiamo comunque sia sappiatelo noi almeno organizzatori arriverà quel giorno in cui dovremmo parlare con questo stato visto che ci hanno ascoltati perché l'iniziativa era questa essere ascoltati l'iniziativa non era andare in strada e fare la guerra come è successo ieri noi le guerre non le vogliamo noi vogliamo tornare alla normalità qui continua no con questa non senso totale è finalmente lo dice chiaramente lo stato ci hanno ascoltati beh ci ha ascoltato doveva dire va bene lo stato ci ha ascoltato è questo grave cari amici questo questo invito a riflettere cioè innanzitutto chi è questa non si capisce come fa a dire che lo stato l'ha ascoltata cosa dice questa persona domandatevi cosa dice poi dice abbiamo cambiato completamente idea completamente no però non non sia non è che ci siamo venduti no adesso però vogliamo parlare con lo stato anzi lo stato ci sta già ascoltando lo stato ci sta già ascoltando quindi si sono già sottomessi in tutto e per tutto andiamo avanti perché l'evento è stato modificato voi scendete di casa fate una passeggiata entro i 200 metri e manifestate ecco qui qui proprio viene svelato completamente l'inganno insomma abbiamo proprio preso in giro adesso questa qua da eversiva da usciano senza mascherine cosa dice vi fate due passi sotto casa con la mascherina con i guanti entro i 200 metri da casa vostra allora questa non è una manifestazione questo lo potete fare già adesso anche io esco col cane e faccio due passi anche senza cane è libero possiamo fare due passi sotto casa la gente li sta facendo entro i 200 metri insomma più o meno quindi questa lo capite che non è una manifestazione cioè questi vi stanno veramente prendendo in giro non vi fate prendere in giro ecco non vi fate coinvolgere da queste persone che dicono un sacco di cose ma parlare siamo capaci tutti ecco però nei fatti dimostrano che hanno cambiato idea da un giorno all'altro che probabilmente lei dice non si non si sono venduti vabbè li avranno comprati non lo so avranno avuto degli altri fini fin dall'inizio però questi da fare una manifestazione adesso vi dicono fatevi due passi sotto casa entro i 200 metri cari amici non è una manifestazione sono cose che potete fare tranquillamente senza che ci sia nessuno che dice di rappresentare il popolo è poi dopo babbo vi dice fatevi due passi sotto casa ecco aprite gli occhi per gente aprite gli occhi perché io mi ritrovo a trattare con 19 mila commenti cioè commenti messaggi che mi arrivano in privato e non riesco a guardarli tutti se non sapete le cose andate informarvi per favore leggete bene il decreto leggete bene le cose come vengono dette ok di questo vi ringrazio seguiranno poi altre comunicazioni perché piano piano che si cresce si vanno inserire delle cose a rimodulare a rivedere alcune cose ma questo non vuol dire che le perché noi ci siamo venduti anzi noi stiamo cercando di essere i cittadini puliti e per bene vogliamo fare le cose come da decreto bene qui la capovolta è compiuta è sono persone di colpo questa è una persona pulite per bene vuole fare le cose secondo il decreto il giorno prima diceva esattamente l'opposto infine cari amici vi ricordo che le vie del male sono la stricate di buone intenzioni quindi in questo momento state molto attenti perché la cosa peggiore da fare è quella di disperdere la voglia di protesta le energie eccetera in una cosa che non serve a niente è la cosa più sbagliata da fare in questo momento allora tanto vale in questo momento continuare a ingoiare resistere e prepararsi per fare qualcosa di costruttivo quando sarà il momento e infine se volete fare una manifestazione concreta se volete dare un segnale concreto e fortissimo senza nemmeno uscire di casa lo potete fare in due modi primo spegnendo semplicemente la televisione se invece volete fare un gesto più eclatante la prendete la o le vostre televisioni e le buttate giù dalla finestra possibilmente prima guardate ovviamente che non passi sotto nessuno ecco e neanche di buttarle addosso delle macchine eccetera eccetera adesso se no scendete in strada prendete la televisione e la cacciate per terra la sfondate per terra fate quello che volete ecco se volete dare un segnale forte questo è un modo semplicissimo per dare un segnale chiaro e preciso adesso io vi saluto un saluto dal vostro Matteo Di Micheli e vi ricordo che questo canale si sostiene solo grazie alle vostre donazioni ciao a tutti e ci vediamo al prossimo servizio ciao